Pace bene a tutti e benvenuti con il nostro appuntamento con la Santità. Oggi, 10 marzo, ricordiamo San Simplicio Papa. Simplicio nasce a Tivoli. Fu pontefice dal 468 al 483 e vide cadere l'impero romano d'Occidente quando Odoacre depose l'ultimo imperatore, Romolo Augustolo. Odoacre, a sua volta, fronteggiò la rivolta di Basilisco con l'aiuto di Teodorico, re degli Ostrogoti, che lo spodestò. Odoacre e Teodorico erano seguaci dell'eresia ariana, mentre Basilisco era un seguace dell'eresia monofista che sosteneva che in Cristo ci fosse unicamente la natura divina. Nonostante l'intervento di San Leone Magno, l'eresia dilagò con forza. Solamente due anni dopo, con il concilio di Calcedonia, l'articolo di San Leone Magno divenne un articolo di fede. L'eresia venne combattuta anche da San Simplicio. Il nome del santo è legato anche al merito di aver restaurato e dedicato alcune chiese romane come santo Stefano Rotondo e Santa Bibiana e, rispettoso dell'arte, ordinò che venissero salvati dalla distruzione i mosaici pagani della chiesa di Sant'Andrea. I suoi resti mortali vengono venerati a Tivoli. San Simplicio visse in un periodo molto, molto complicato, con la caduta dell'impero romano d'Occidente. Immaginiamo che disastro fosse a livello politico. E non solo. Quindi lui ha dovuto dare la continuità ad una chiesa in un momento politico molto, molto difficile. Quindi, problemi dal punto di vista politico, ma problemi anche dal punto di vista dottrinale. Infatti, si stava diffondendo l'idea, l'eresia, che Gesù non fosse uomo, ma fosse solamente Dio. Ora, noi diamo per scontato la natura divina e la natura umana di Gesù, perché ci sono stati tanti secoli in cui la storia ha dovuto difendere questa idea. Ma il fatto di averla per scontata non vuol dire averla interiorizzata a dovere. Quindi, che cosa ci dice il fatto che Gesù non sia solo Dio, ma sia anche uomo, sia uomo e Dio allo stesso tempo. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere su questa verità di fede che è stata difesa, a volte anche col sangue. Quindi ringraziamo il Signore per persone come San Simplicio Papa che l'hanno difesa e che hanno condotto la continuità della Chiesa fino ad oggi. Insieme a San Simplicio preghiamo per la Chiesa e preghiamo affinché la verità che la Chiesa propone possa essere sempre mantenuta nel suo splendore e nella sua, sottolineo, verità di salvezza. Preghiamo insieme. San Simplicio prega per noi.